questo video è dedicato alle persone che hanno già visto qualche altro video precedente del canale o che seguono il canale e perché voglio parlare proprio alle persone alla community rispondendo in maniera molto così generale ad alcuni commenti ripetuti che un po credo debbano essere un po più sviscerati e in cui io voglio dire la mia opinione su quello che penso rispetto a questi commenti e me li sono anche segnati oggi domenica mi sono messo lì ho detto vabbè mi faccio qualche appunto e cerco di spiegare soprattutto questi aspetti allora questo è un canale che si occupa di temi ben precisi io sono psicologo psicoterapeuta dal 2020 quindi quattro anni fa dopo il lockdown ho iniziato a registrare video perché un mio amico tra l'altro un grandissimo youtuber che vi consiglierei di seguire se siete appassionati di salute mentale di salute in generale che dottor valerio rosso incontrandoci mi diceva perché invece di far solo i pezzi per la radio non fai anche un video io lo sto facendo e mi dà molta soddisfazione farlo è qualcosa di molto utile e io ho detto ma sì perché no edo in 2020 ho iniziato a registrare i primi video con una qualità spero peggiore di oggi e per me lì è iniziato un percorso fantastico perché ho iniziato a ristudiare con un grande piacere tantissimi temi prima era un dovere fare formazione e poi è diventato invece un grande piacere erano 24 anni che io facevo questo lavoro avevo appena superato i 50 anni e è stata la spinta che mi ha rimesso in gioco mi ha rifatto riappassionare ancora di più alla mia materia e quindi il mio lavoro è diventato ancora più ricco di soddisfazioni e piacevole e ancora oggi dedico tantissimo tempo a questo canale io credo che meno di 20 ore a settimana non li dedichi mai perché faccio tutto da solo e quindi per me questo probabilmente mi rende il tutto più difficile devo studiare devo preparare i testi devo poi dopo parlare al video poi devo devo fare l'editing poi devo pubblicarlo e farlo mi piace tantissimo spero che piaccia anche tanto alle persone che sono iscritte al canale e che trovino utile quello che faccio perché per me la cosa più importante è far conoscere alcuni aspetti delle relazioni perché questo permette di riconoscere poi alcuni aspetti delle relazioni che fanno soffrire e questo offre più potere a chi li guarda e allora questo canale è dedicato alle persone che hanno delle sofferenze in quel momento relazionali che vivono delle situazioni che sentono nelle quali sento di essere ingabbiate e oppure che vogliono migliorare le proprie conoscenze rispetto a questi temi perché sono temi per me molto affascinanti e allora vorrei precisare alcuni aspetti allora il primo che mi sono segnato è che ogni volta che faccio dei video a volte parlo al maschile o dico il narcisista o dico la narcisista la persona con disturbo narcisico di personalità più neutro ma non lo posso ripetere per cento volte e ogni volta che faccio un video c'è sempre qualcuno che mi commenta dicendo è però anche le femmine fanno così oppure però anche i maschi fanno così devi essere più concreto a non si parla siamo sempre a condannare il maschilismo bisogna condannare anche il femminismo cioè come se io dovessi fare il tifo per qualcuno quando faccio un video non è che io se parlo di alcune caratteristiche una persona con disturbo narcisico di personalità e perché io ce l'ho con quella persona in generale o perché detesto quelle persone io quello che dico è purtroppo è un disturbo ad esempio questo di personalità che ha delle implicazioni per persone che che frequenta perché sono persone che manipolano che non hanno empatia proprio per il disturbo e questo in chi incontrano è un grosso problema molto molto spesso ci sono storie di grande sofferenza accanto queste persone o in situazioni del genere ma che sia il capo o che sia la madre o che sia il figlio comunque avere a che fare con persone con questo disturbo crea grandissima sofferenza quindi a me non interessa parlare di femmina dal ragione al maschio al maschilismo al femminismo interessa che chi ascolta il video tragga alcune cose alcuni concetti alcune spiegazioni a quello che vive che gli dia più potere per poterne uscire per poter capire quello che sta vivendo e smetterla ad esempio a volte di giudicarsi di accusarsi non essere abbastanza perché è semplicemente quel rapporto che sta distruggendo la cosa e quindi perché altra cosa altro commento che veramente faccio fatica ad accettare è quello del eh vabbè però se uno rimane una relazione tossica vuol dire che ha tanta colpa come il manipolatore polatore uguale al manipolato truffatore uguale al truffato io qui scusate ma senza voler dare classifiche sono due cose diverse cioè se io ho una fragilità momentanea o una situazione di ingenuità nel senso più buono della parola e di fiducia nell'altra persona e l'altra persona viaggia come si dice con la volpe sotto l'ascella e quindi ogni cosa che fa e per creare una situazione di maggior potere maggior potere maggior potere e qua c'è una vittima che è la vittima dell'abuso narcisistico ad esempio e quella persona lì al diritto di avere informazioni per potersi sottrarre da quella relazione e poter vivere una relazione che la gratifichi perché essere persone che si fidano non è veramente nulla di negativo e mi pare che anche la legge tutteli le persone che vengono truffate dai truffatori vabbè sempre meno e qua credo che ci sia la deriva di una società o comunque di una cultura di una civiltà la nostra che dà sempre più riconoscimento perché il truffatore furbo perché il ladro più furbo perché chi è disonesto è più furbo e chi invece è ingenuo più scemo chi è truffato è più stupido o ingenuo nel senso brutto della parola è no scusate io non trovo che ci sia la stessa situazione anche perché a volte alcune persone probabilmente iniziano con ingenuità e poi entrano in una relazione dalla quale è oggettivamente difficile uscire e quindi se ti dà fastidio che io parli di vittime o che io parli alle persone che subiscono la situazione la relazione tossica cercando di aiutare uscire ci sono tanti canali canali che forse parleranno anche in modo diverso e credo che siano canali più adeguati a chi ha questa visione della vita io non ce l'ho guardando gli appunti terzo aspetto che voglio chiarire è quello legato ai commenti che deridono denigrano altri commenti o altre persone che si aprono all'interno del canale sotto i video nei commenti che condividono la storia e come potrei dire vengono derisi per il quello che hanno vissuto o ci sono dei commenti offensivi su questo io non ho proprio una mezza misura se io li colgo cerco di leggerne tantissimi di commenti per me davvero molto complicato leggerli tutti ma se ne becco qualcuno quello sparisce e sarà così sempre fino a quando sarò io a gestire questo canale perché per me la cosa bellissima che io trovo in questa in questo canale è la community perché ho trovato tantissime persone che cercano di aiutare che ha un problema che condividono delle esperienze per trovare le energie le forze per poi fare un passaggio e devo dirvi che uno degli aspetti più belli è quando una persona dichiara che ha avuto utilità nei miei video cioè che gli è servito per uscire oppure per capire per smetterla di criticarsi per smetterla di giudicarsi per aver compreso la natura del comportamento di sua madre di suo padre del fratello anche qui ci sarà qualcuno che mi dice ma devi mettere anche i figli metto anche i figli però non è questo il significato il significato vero che se io vivo una storia di difficoltà e trovo all'interno di qualche video di qualche messaggio di qualche commento qualcosa che mi aiuta è lì la preziosità di questo lavoro non è che ci devono essere delle classifiche maschilista femminista torniamo indietro ok io non tifo per nessuno come del resto tifo per tutti per coloro che vogliono star meglio e fa star meglio gli altri quindi deridere insultare essere aggressivi per me non ha nessun tipo di valore e quindi questo dal canale cerco sempre di farlo sparire io però detto questo è sicuro che continuerò a fare video perché è una cosa che mi piace molto è un canale che trovo di comunicazione che trovo molto utile mi sembra che sia una cosa bella che si possa fare nella vita quindi io continuerò che continuerà a seguirmi mi farà un grande piacere e posso anche dire che se non ti sei ancora iscritto e ti piace il canale ti piace come lavoro eccetera se ti iscrivi al canale per me questo un gesto importante perché riconosce un po il mio impegno ma aiuta anche il canale a crescere ed è del tutto gratuito ma detto tutto ciò vi saluto e al prossimo video